Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia, siamo noi. Nuova Tecnologia è un'azienda che nasce dalla prosecuzione familiare di mio padre Sirio, che era a Falegname, abbiamo sempre curato il settore arredamento e nello specifico io mi sono occupata di arredamento bioecologico. E costruiamo arredamenti solamente con legnami certificate, polle ecologiche, vernici ecologiche, costruiamo i materassi naturali e facciamo parte della filiera della lana. Quindi noi acquistiamo la materia prima prodotta in Sardegna e la trasformiamo, fabbrichiamo tutto quello che a 360 gradi è dentro la casa per il benessere della persona. La nostra missione è una mano all'uomo e una all'ambiente, perché vorremmo chiudere i cicli, non inquinare e soprattutto riutilizzare tutte le materie di scarto da altre produzioni, tant'è vero che noi facciamo parte della rete Sardegna Produce Verde, che è una rete sarda alla quale hanno aderito tantissime aziende. Trasversalmente curiamo un po' tutti i settori, dalla produzione delle creme bio all'arredamento, alla palegnameria, alle spugne vegetali, alla consulenza sul tracciamento dei prodotti alimentari e ci aiutiamo fra di noi, ma non solo, siamo utili trasversalmente. Noi cerchiamo di essere utili alla clientela, perché comunque siamo un'azienda che deve resistere, combattere. Le persone alle informazioni rispondono molto positivamente, però devi spiegare. Quindi il nostro lavoro principalmente è quello di informare, sollecitare a essere critici negli acquisti. La riflessione sul benessere bioclimatico all'interno degli edifici, la salute della persona, l'utilizzo dei materiali naturali, sono il nostro caposaldo e quindi cerchiamo di collaborare con le aziende sarde che hanno necessità anche di trovare delle sponde per produrre cose nuove. Io sono entrata a far parte di Italia che cambia come agente del cambiamento perché mi è piaciuta moltissimo la filosofia di Italia che cambia. Abbiamo costituito il gruppo degli agenti del cambiamento sardi. Siamo disponibili a 360 gradi per il bene della Sardegna. L'Italia che cambia per me è stata proprio una frase che mi ha suscitato molto interesse e poi ho scoperto che c'è molto di più della sola parola Italia che cambia. Perché ci sono tante belle persone che fanno un sacco di cose in tutta Italia e che spesso e volentieri faticano come stiamo faticando noi e insieme si può fare un pezzo di strada e cambiare l'Italia a piccoli passi.